sono maria grazia insegno da tanto tempo alla scuola primaria di villanova dal benga sono anni che scrivo per me e sapere che i miei pensieri emozionano mi ha convinto a uscire allo scoperto e quindi mi ha costretto anche ad espormi le poesie scoprono di me un lato intimo che pochi conoscono le donne possono raccontarsi senza bisogno di essere intervistate e questa è la vera essenza del progetto le donne delle violette il coraggio di mostrarsi per come si è io l'ho sentito e l'ho scritto in una delle poesie che ascolterete che è intitolata ritrovarsi vabbè vorrà dire che sono pronta ad affrontare questa ansia l'amica maria grazia la bibliotecaria ha anche colto l'occasione della giornata internazionale della poesia per farvi conoscere alcune mie poesie interpretate da piera grazie a tutti